Amici amici, ciao amici, oggi vi preparo una rocchetta, vi porto dei polpettini con la terra Con la terra? Mh mh Wow, e lì davanti che cos'è che hai trovato? Allora, nel lotto del mio nonno, l'ebba, mai, fiori e i denti di leone Ok, allora, ti do il piatto? Sì Amici, adesso ho preso la tegola e adesso ti metto la lebba Adesso metto l'interata con il mio pollo, tutti i polli dei miei fatti Tanta, tanta, mettile tanta E che non è piena Esatto E tu? Che a noi ci piace mangiare tanto Allora, a me no, tante, tante Della lenzalata no No, ne mangio poca di lenzalata Ma le polpette le mangi però Di tutte Sì, vedi Quelli cosa sono? Fili d'erba? Sì, ma facciamo finta che è cipolla È cipolla, ok E va, cipollina E dopo due a quattro e l'erba Ma non me la puoi troppa? Certo Adesso li abbiamo finta Ok Adesso facciamo le polpette No, potremmo mettere quattro Ah, non c'è Certo Cosa che metti? I fiorellini Con il mais Anche c'è anche il mais E il mais? Da chi l'abbiamo rubato? Da le galline Adesso messiamo il mais Vai Io posso mettere Ciao Ciao Bello Dopo lo dovete attazzare Cosa serve per fare le polpette? Serve l'acqua e la terra Ok La terra ce l'hai L'acqua te la porto io Adesso Portendo le pompe È fatta bene? Sì Ok Bella Sto battendo le pompe Fai bene la palla? No Non c'è abbastanza terra? Sì Sì Ti metto tanta terra Bravo E adesso farla girare bene Patto Prima di tempo E' abbastanza l'acqua? E' abbastanza l'acqua? Te ne serve ancora? Sì 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 Come sono le tue mani? Poche E ti piace la cosa? Sì No Adesso tu Intanto le mani Lo pulito? E' abbastanza l'acqua della palla? E' abbastanza l'acqua? Perché il banco da lavoro deve essere sempre pulito 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 metto qui? si metto anche qui adesso prendiamo anche due polpette polpette ma perché c'è una roba lì? vabbè gli insetti amore sei in mezzo a un campo? i campi non sono l'occhi vabbè l'orto è un piccolo campo no? si ok sta mettendo i petalici le piove di pesco le piove di pesco ok ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che fiori è quello lì? Gentiglioni. Non lo sapevi? Non lo sapevi? Lo buttiamo come paurina. Ah, ok. E così le pimpette sono un po' più buone con la paurina. E dopo per gli altri bianchi, faccio come... Quali cosa sono quelli di bianchi? Le faccio come... No, ma che fiori sono? Tutti sono quelli bianchi. Margarite. Margarite. Bu, lo metti là. Che fiori sono quelli bianchi, scusami? No, margarite. Eh, ma non distruggerli tutti, però. Ma tu... Qualcuno lascialo intero. Allora... Papà, te ne ho detto... Te ne ho detto anche io. Ma c'è... Pic! Te ne ho dato un po' più. Grazie. Io ti ho detto, prendi i miei figli. Quattro è per me. Papà, me lo puoi attiene? Le ho in mano. Spavone. Guarda. Bello. E tu? Così, a mangiate proprio. E tu? Cos'è che stai mettendo? Per i tazzi. Per fare venire con canizetta il piatto. I tazzi. E i piori viola. Adesso potete andare il mio piatto. Volete attagare? Ciao, ciao, amici. Ci vediamo domani, martedì o domenica o lunedì, come volete voi. Oppure... L'ultimo donno. Sì. Domenica. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti.